simulatore spaziale 2 supera il test di volo spaziale alieno comandi spara missile ruota sinistra ruota destra ma è diversa questa siamo dall'alto ok i missili ne abbiamo pochi quindi è meglio non sprecarli lì però esatto c'è uno scudo perfetto la c'è un busta di velocità peccato che non posso tenere premuto per continuare a sparare non credo che ci siano oggetti nascosti all'interno dei meteoriti ma nel caso fosse così scudo ecco fatto dammi quegli scudi dammi anche la vita la figurina affanculo l'abbiamo persa credo che sia la prima perdita che subiamo di figurine dannazione vabbè non importa comunque siamo a corto di vita ma poi ecco qua come faccio a schivare tutti quei colpi come facevo a schivarli mi serviva il missile per forza di cose vabbè vabbè da nazione teniamo lì da considerazione finché non vediamo questi qua grossi ma più che altro è che i colpi dannazione non non si possono evitare quando inizia a spammare il robottone Non si possono spammare Comunque La figurina che abbiamo perso È qua Quindi rimaniamo E più che altro dicevo A cosa serve lo scudo? Ecco qua Ecco fatto Dammi la vita Dammi anche i missili Che si sa mai Ma pappaculo Sta missione è stupidissima È veramente stupida Però almeno abbiamo preso Le figurine Almeno su quello Siamo a posto Allora sai cosa? Io spammo Io spammo prima o poi Riusciremo A ucciderli tutti Doppio colpo Perfetto Spero che non finisca il doppio colpo Più che altro Spero che non sia Un potenziamento temporaneo Ecco qua Dannazione Ovviamente sono stato colpito E guarda un po' Mi hanno tolto Il potenziamento Dammi la vita va Ecco fatto No in realtà Credo che mi abbiano tolto Potenziamento Perché Abbiamo preso L'autofuoco Ecco fatto Datemi ancora un po' di vita Per favore Eccoli qua Ovviamente Bisogno Di un po' di vita Figurina No E vaffanculo Sta missione La odio Prendi troppi colpi Veramente E c'è Veramente poco margine Di schivata E' terribile Sta missione E' veramente Stupida Hai veramente Pochissimo margine Per Evitare i colpi Io faccio così Di solito Funziona Continuo a spammare Quadrato Probabilmente Mi si staccherà Il pollice Però facendo così Non riusciamo A prendere i potenziamenti Facendo in questo modo Ci diamo Troppo lontano E non possiamo Prendere gli scudi La vita Adesso dovrebbe Arrivare un altro Da qua Vero Ecco fatto Ce lo siamo già Levati dalle scatole Comunque si Abbiamo appena scoperto Che i potenziamenti A una certa Finiscono Figurina No 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 Perché sei stupido Prendi Ti odio Ti odio Maledettamente Maledettamente tanto Dai su che Secondo me ci siamo Ormai Ecco qua Un po' di vita Ma non c'è un checkpoint Almeno Dannazione Oh vita 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 Eccola qua Scudo Scudi Perfetto Fuoco automatico Scusate se parlo poco in questa parte ma È veramente brutta È veramente orribile E sono abbastanza sicuro che se adesso moriamo Devo rifarmela di nuovo da capo Dammi quella vita Perfetto Perfetto Scudo ottenuto Fuoco automatico Un'altra figurina ma tanto ne abbiamo persa una Yes Peccato per quella figurina mancata Peccato